ci siamo si allora benvenuti benvenuti a tutti oggi parliamo di event sourcing o meglio parliamo di integrazione dati e di come il pattern può darci una mano quindi innanzitutto una breve presentazione su di me io sono marco roti di arezzo sono team leader e senior developer in sintra digital business lavoro in questa azienda da oramai 15 anni quindi ho visto diversi passaggi evolutivi molti di questi hanno portato anche alla realizzazione di questo talk e sul tema dell'interazione da di cosa parleremo come ho detto parleremo del tema di integrazione dati che è un argomento che conosciamo tutti perché chi non ha mai avuto difficoltà con 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 due applicativi che comunicano fra di loro con l'interazione fra due applicativi io stesso se ripeto se riguarda il passato show giornate intere per sistemare dei dei flussi notturni per aggiornare magento con magazzini dati con aggiornamento di prodotti eccetera oppure anche interazioni con sistemi esterni che ci vanno c'erano problemi che generano nuovamente problemi di comunicazione ed integrazione e oggi vedremo se un approccio tipo red sourcing ci può aiutare a mitigare questo problema creando applicazioni resilienti e facili da mantenere vedremo anche come il pattern si può applicare ad un caso di uso reale quindi presenterò lo strumento tappor che è un sistema riditugo che ci aiuta ad implementare il modello vendriven cosa mostrerò mostrerò questo strumento tramite un semplice esempio pratico dove collegherò unicommerce ad un sistema di magazzino che gestisce le spedizioni vedremo come l'approccio come mostrando questo approccio applicato a questo sistema reale riesca a rendere indipendenti i due sistemi cosa non ha funzionato fino adesso sull'evoluzione dello sviluppo del software in principio c'era il monolite monolite che molti di noi ci avevano avuto a che fare o che anzi molto spesso ancora molti ci lavorano sopra compreso me stesso qui diciamo che essendo tutta la base tratti su un'unica posizione non abbiamo il nostro problema di integrazione e di comunicazione fra applicativi e quindi non c'è molta aria ovviamente il monolite era una pessima ancora una pessima architettura da adottare per la scarsa manutenibilità e per il fatto che tutto il codice sta nella stessa posizione e evolversi o integrarsi con altri sistemi è sempre molto complicato quindi il passaggio successivo evoluzionale è stato dividere gli applicativi dividere le le esorgenti questo si pensava che che aiutasse chiaramente dal concetto di architettura monolite quindi abbiamo adottato strumenti di etl per cominciare per comunicare fra 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 applicativi e per spostare tratti oppure organizzare i dati sicuramente abbiamo cominciato ad abbattere quei silos aziendali che erano tutti su sulla stessa logica verticale tutti insieme tutta la logica funzionale dell'azienda però cosa abbiamo ottenuto dividendo questi applicativi problemi di comunicazione perché chi sposta i dati deve conoscere le logiche di due componenti che comunicano molto spesso soprattutto all'inizio ma probabilmente che tuttora molte sicurizzazioni fra applicativi vengono con sicurizzazioni notturne che al minimo errore rischiamo di non trovare stati aggiornati un altro problema era che la comunicazione massiva di dati chi non era in tempo reale diciamo che chi non andava molto bene con le con l'evoluzione che c'è questa la mancanza di disaccoppiamento di disaccoppiamento era comunque il punto focale ma se ma se volevamo i dati in tempo reale beh a questo punto ci siamo inventati le comunicazioni via ipi bello utilizziamo degli endpoint che salvano ottengono delle informazioni tutto molto comodo comodo ma complicato perché abbiamo sempre il rischio che uno dei due attivi sia sia town sia chi sia spento che abbia dei pro di abbia dei problemi e qui si perde informazioni si perde la validità dell'informazione non sappiamo se la mia informazione è sullo stato più aggiornato oltretutto all'aumentare degli applicativi c'è un'esplosione delle connessioni c'è una una catena di dipendenze magari c'è l'applicativo 1 che ha l'applicativo 2 che ha l'applicativo 3 ci sono tempi di attesa ci sono ripercussioni sulle prestazioni ma soprattutto si perde il controllo il controllo sulle integrazioni cioè se io devo aggiornare ho bisogno di aggiornare determinati metodi determinate firme da un lato o da un altro l'altro applicativo necessita sempre di aggiornamenti anche in questo caso ricordo problemi infiniti fra e commerce sempre sui commerce e i sistemi che ci fornivano le disponibilità e i prodotti che aggiornavano che venivano aggiornati spesso e noi si doveva comunicare con loro per mettere appunto l'aggiornamento insieme per rilanciare il tutto per ripartire quindi evoluzione da monolitica ad applicativi più distribuiti e le piai però oggigiorno il problema non è più nel monolito perché siamo passati da come nell'esempio che vedete a da un e commerce che ha tutte le funzionalità in uno stack applicativo singolo a un sistema amico servizi questo in termini di comunicazione di integrazione ha portato però ad un ad un'esplosione di complessità perché i singoli microservizi devono comunicare fra di loro all'aumentare dei microservizi aumentiamo la complessità quindi abbiamo visto che questa questa evoluzione diciamo che ha complicato la la comunicazione che se si fa via ipi punto punto può provocare problemi e è poco resiliente quindi ulteriore comple ulteriore livello di complessità come ho appena detto questo ricerchiamo quindi di cosa abbiamo bisogno per gestire una comunicazione fra servizi come abbiamo visto nell'ultimo modo sicuramente di resilienza di continuare ad avere il vantaggio delle delle comunicazioni in real time e allo stesso tempo di non di ritornare a quei processi notturni di sintetizzazione o di aggiornamento ma soprattutto avere autonomia fra servizi o fra applicativi autonomia nella propria esecuzione perché ricordo che un collegamento ipi punto punto è un accoppiamento che è una dipendenza che può portare problemi come risolviamo questo problema? quale approccio possiamo usare? l'eventsourcing è un pattern che sicuramente ci può dare una mano ora qui riporto una frase di Martin Fowler che spiega l'idea fondamentale la parola dice che ogni cambio di stato dell'applicativo deve essere catturato su un evento su un oggetto evento e questi eventi devono essere storicizzati nella stessa sequenza con cui sono stati applicati per la durata dell'applicativo quindi che cosa abbiamo? abbiamo il concetto di evento quindi se è un applicativo e ho un'operazione fondamentale un fatto che succeda all'interno della mia applicazione questo è un evento che viene storicizzato ok e reso disponibile all'applicazione che chi ne può vedere l'evoluzione ovviamente ora l'eventsourcing è un tema ampio e vasto a differenza del titolo ops io voglio trattare l'argomento di integrazione e del problema che mi deriva quindi estrarrò dal pattern quello che mi serve che fondamentalmente è l'event bus e anche perché per entrare sull'event sourcing a livello più dettagliato bisognerebbe parlare di diversi concetti come CQRS o il domain design o roba di questo genere di come si tratta un evento di come è disponibile su questa presentazione però mi voglio voglio trattare il tema dell'interazione dei dati quindi spiegherò il concetto in una maniera forse un po' rozza ma chiara per tutti mi scuso con i puristi del pattern o chi ci lavora spesso o tutti i giorni diciamo quindi è un evento se scateno è un evento un'operazione un fatto devo generare un'azione all'esterno per esempio io faccio un ordine questo ordine mi deve arrivare al magazzino quindi se utilizzassi un collegamento punto punto via API è una chiamata che però rientra nelle problematiche che abbiamo detto di autonomia e di mancanza di resilienza oltretutto se ho più se ho più comunicazioni da fare più più interazioni indicate da fare o più collegamenti punto punto ulteriore problema cosa ci dice l'eventsourcing? ci dice che possiamo pubblicare l'evento in una coda in Event Pass e e e altri servizi altri applicativi possono restare in ascolto di questa coda e e da agire di conseguenza dell'evento continuiamo ad avere la comunicazione in tempo reale che volevamo ma non abbiamo dei flussi dati diretti e fin qui riportando il nuovo approccio noi abbiamo noi abbiamo noi abbiamo l'ordine dal nostro e-commerce che pubblica un evento su un'evento basso o un message broker i due i due applicativi restano in ascolto di questo evento e a cui viene notificato l'evento stesso e a cisco di conseguenza bene quindi abbiamo l'event broker che fondamentalmente da dei produttori di eventi abbiamo dei consumatori cosa e vediamo che chi scende all'evento pubblica pubblica un message ad esempio su una coda e lo scopo del produttore è solo di segnalare che cosa è successo è il consumatore che deve essere in grado di reagire allo stesso dalla comunicazione API ovviamente cambia tutto l'evento è notificato immediatamente o comunque mantenuto su una coda se arrivano mille ordini viene notificato mille volte non ho problemi di comunicazione il produttore è in uno stato di error safe non c'è accoppiamento c'è autonomia non c'è l'accoppiamento fra i due servizi che risentono di problematiche di comunicazione oppure di down o roba del genere perché l'evento che mantiene il messaggio fino alla notifica ora cosa ci permette questo sicuramente l'evoluzione dei servizi che sono completamente indipendenti ci mostra uno scenario di forte evoluzione perché chiaramente è una scalabilità orizzontale più facile e veloce cioè ora posso aggiungere tanti servizi che usano questo tipo di approccio un approccio being driven e questo è quello che mi serve per il mio concetto di integrazione dati ok quindi e questo risponde dicevo alle mie domande sulla resilienza e sull'autonomia molto bene come applicare questo tipo di approccio sul nostro sistema sulla nostra architettura amico servizi dovremo sviluppare qualcosa del genere quindi abbiamo la nostra struttura l'e-commerce oramai è l'esempio più utilizzato quindi noi abbiamo servizi che producono eventi e abbiamo un broker un message broker che li notifica verso degli eventi subscriber allo stesso se volessimo sviluppare una struttura di questo una architettura di questo genere dovremmo cominciare a sviluppare servizi per la cessione dell'having store della sottoscrizione le comunicazioni eccetera si può ovviamente fare anche da zero però sarebbe più comodo cercare un qualche tool un qualche un qualche applicativo che ci possa dare una mano un qualche sistema che ci possa dare una mano in questo senso quindi ci viene in aiuto d'Apor ora d'Apor è che sta per Distributed Application Runtime è un progetto open source progetto avviato da Microsoft che ha un semplicissimo obiettivo aiutare a modellare applicazioni resilienti e sicure tramite microservizi in ambienti cloud bene quindi è un applicativo runtime che si affianca ai nostri servizi e ci permette e ci permette di semplificare la strutturazione che abbiamo visto qui oltre a dare ovviamente migliaia altre funzionalità che magari vedremo dopo cosa fa codifica delle best pratiche all'interno di servizi di servizi API indipendenti che lui chiama building blocks fondamentalmente sono servizi che si affiancano agli servizi della nostra architettura che possono essere richiamati per ottenere via API via HTTP API per ottenere una serie di funzionalità queste funzionalità possono andare da una comunicazione service to service più sicura perché se ho dei servizi che rilasciano delle API per 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 la per la comunicazione se utilizzo da port da proxy per la connessione posso ottenere dei 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 vantaggi questi vantaggi sono di sicurezza sono sistemi di retrai e altre funzionalità allo stesso modo lo stress management è un altro tipo di componente applicabile a queste building block per collegare dei data store quindi se volessi pubblicare degli eventi potrei impostare il data store su da port che mi gestisce la scrittura su event store quindi centralizzo su su servizio reso disponibile a tutti i servizi miei servizi applicativi la funzionalità con anche qui sistemi di retrai sistemi di controllo il componente impostabile sulle building blocks che posso avere su da port che interessa noi da vedere se è più facile da impostare da configurare è sicuramente il componente per gestire il meccanismo di publish subscribe come funziona funziona collegando il componente a un provider che gestisce event bus o gestione a coda e di cui noi dai nostri servizi accediamo tramite il trappor due vantaggi prima di vedere un po' meglio di cosa stiamo parlando uno dei vantaggi fondamentali è che trappor è completamente agnostico sullo sviluppo dei servizi che possiamo scrivere in qualsiasi linguaggio o framework è indipendente dalla piattaforma perché gira praticamente ovunque può essere usato localmente su cluster di Kubernetes oppure su altri hosting environment un altro vantaggio è che distribuisce delle librerie SDK per facilitarne anche l'uso per le chiamate questa è diciamo è la struttura di funzionamento abbiamo il nostro livello di servizi che possiamo scrivere come ci pare il nostro servizio di capo in appoggio che ci rende disponibili le funzionalità e tutto questo può girare sulle infrastrutture che vedete qui che possono andare da Azure a AWS o a molte altre il funzionamento dei servizi va per configurazione del building block scusate usiamo il loro nome che funziona per componenti i componenti che ho detto prima che possa assegnare un broker di publisher subscribe o un database o un file system o anche dei collegamenti esterni anche la nostra rete e questi componenti che sono configurati tramite YAML tramite i file YAML sono disponibili alle chiamate API come funziona il capo funziona per architettura sidecar quindi abbiamo il nostro applicativo abbiamo l'applicazione il servizio sidecar che si affianca ad esso abbiamo una comunicazione diretta HTTP lo stesso e tramite le chiamate che possiamo vedere qualche esempio qui possiamo utilizzare i servizi tipo possiamo invocare un metodo API messo a disposizione di un altro servizio oppure impostare lo stato di un database configurato salvare degli eventi o pubblicare eventi come in questo caso ora potrei farvi vedere come viene come si installa come si configura come funzionano i componenti quali sono i componenti quali sono le building block come si installa localmente oppure su Kubernetes però preferisco farvi vedere direttamente la demo per mostrarvi come sia possibile facilmente integrare questo tool sul sistema che ricordo ci dà più sicurezza sulle comunicazioni e ci fornisce questi servizi queste funzionalità come il pop culture subscribe chiaramente l'esempio che voglio portare è un esempio di proof of concept perché chiaramente non voglio arrivare a fare un prodotto finito o altro voglio solo dimostrare la facilità di applicazione e che si e la facilità di applicazione un'altra premessa che vi faccio è che ovviamente l'applicativo che vi faccio vedere vi è lanciato il locale come chiama ad capors self-forced mode qui riassumiamo le cose che ho appena che ho detto fino ad ora cioè il servizio il servizio di sidecar il servizio di sidecar accede ai componenti che forniscono le funzionalità e accede perché l'applicativo gira su docker ovviamente l'approccio che ha le sidecar verso i servizi che vengono impostati sui componenti tipo può impostare Redis può impostare RabbitMQ per la gestione delle code e del Publish Subscribe eccetera quindi il mio esempio quindi è relativamente semplice è una comunicazione fra uno shop e uno storage lo shop riceve un ordine crea un evento di ordine che viene infiato verso Capor che al suo interno ha un componente di RabbitMQ configurato per ricevere eventi lo storage riceve e lo storage si mette in ascolto di questo evento di creazione di ordine e agisce di conseguenza creando una spedizione chiaramente gli oggetti che passo su questo sistema sono molto semplici non sono complessi per semplificare e per farvi vedere solamente la comunicazione si intermezzano a shop e storage due applicazioni che ho scritto in .NET Core che è mia comodità ma potevo scegliere perché il linguaggio è il servizio poteva essere scritto in qualsiasi i due servizi potevano essere scritti in qualsiasi linguaggio per la gestione della pubblicazione e la notifica dopodiché dopo che vi ho fatto vedere direttamente la demo vi farò vedere come rapidamente riesco a configurare questi due elementi due parole sulla scelta dello shop e dello storage su shopware che non conoscevo ma ho visto che si installa rapidamente e fornisce eventi di webbook sul salvataggio dell'evento mi risultava molto semplice l'utilizzo e l'ho utilizzato quindi era comodo per comunicare con Dappo lo stesso vale per Pinkor che oltretutto è un asset aziendale molto utilizzato che conoscevo molto bene e che permette facilmente di creare degli oggetti personalizzati come nel nostro caso un oggetto che rappresenta lo shipment e anche lì di avere per l'evento di storage del webbook di aggiornamento per cui al salvataggio dello status dell'aspirazione c'è un nuovo evento che torna indietro e aggiunga lo shop quindi vediamo un po' questo qui è shopware molto semplice è la demo store che si installa tramite composer lanciando lanciando l'installazione niente di complicato dall'altra parte abbiamo Pinkor per chi non lo conosce è un CRM che si sta evolvendo molto e offre funzionalità molto carine e sinceramente è molto comodo da utilizzare su Pinkor ho definito una tipologia di oggetto shipment che vedremo che verrà creata al momento della creazione dell'ordine e apro inoltre Zipkin perché uno dei vantaggi di Dapor è il fatto che fornisce anche dei componenti di osservabilità molto importanti per tracciare ad alto livello il funzionamento dell'applicazione poi vedremo che cosa c'è quindi facciamo anche login questo facciamo prima quindi abbiamo finalizziamo rapidamente un ordine mi vado a comprare questi bellissimi questi bellissimi guanti lo finalizziamo velocemente l'esempio ricordo è banale ma serve solo per per dimostrare velocemente come funziona Dapor ordine eseguito su shopware di cui abbiamo l'amministrazione posso vedere che è stato creato in tempo da me al mio indirizzo il mio ordine che è in status open io vado su zip vedrò non so se si vede perché è molto piccolo e tra l'altro non si può neanche zoomare mi dispiace vedremo le due applicazioni che ho scritto in internet che dopo vedremo anche nel dettaglio che sono collegate da Dapor perché c'è un evento che porta l'informazione da qui dall'order sub che è uno dei due applicativi allo shipment sub che è l'altro nel dettaglio possiamo vedere come l'order sub e abbia pubblicato l'evento e l'altro applicativo lo abbia ricevuto dall'altro lato mi aspetto che chiudendo e riaffrendo per comunità in data di oggi alle ore 19.41 siamo noi è arrivato il mio è stato creato il mio oggetto di spedizione che era che è stato generato come ricordo dalla notifica dell'evento di creazione ordine allo stesso modo se io salvo la spedizione lo status della spedizione mi aspetto la generazione di nuovo evento da quest'altro lato che è questo che ha notificato nuovamente l'evento di spedizione verso Dapor che il quale componente che su cui ho impostato Rabbit mi ha ripubblicato mi ha notificato scusate verso l'altro applicativo che mi ha aggiornato l'ordine quindi se qui faccio un refresh mi aspetto che l'order status sia passato da open a in progress l'applicazione fa semplicemente questo non c'è niente da molto molto semplice ma la comunicazione non è diretta via API ma è gestita con questi eventi di pubblicazione che passano da Dapor che si mette nel mezzo della comunicazione fra i due servizi e può gestire le funzionalità di retraio se ci sono problemi all'accesso di Rabbit oppure di o altre funzionalità di concorrenza insomma è molto configurabile se ritorno di qua magari vabbè lasciamo così per comunità di apertura verso il codice che voglio fare l'esempio riporta quello che ho fatto io cioè shopper chi notifica un evento di creazione dell'ordine Pincor riceve la notifica dell'ordine e che è la spedizione l'aggiornamento di Pincor che aggiunga lo stato della spedizione genera che ho scritto a scrivere perché no notifica l'ho scritto bene scusate e shopper riceve la notifica dello stato della spedizione e aggiunga lo stato dell'ordine è un po' caotico lo posso capire lo 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 riassumo con un con un breve con un con un con un su Pincor perché non è ora il caso non è ora il tema non è questo il tema che voglio mostrare viene ricevuto l'informazione della creazione dell'ordine dal mio applicativo che fa la pubblicazione verso l'event broker e come la fa la fa con due componenti che vi ho spiegato prima che sono il service invocation dove lì trovi un passo c'è un esempio di chiamata dove i due servizi vengono identificati da un apd io richiamo un determinato servizio un endpoint api di uno dei due servizi e c'è una porta e c'è il pat da richiamare il metodo da richiamare questo qui come ho spiegato anche prima offre diverse funzionalità di retry e di encryption l'altra componente è il componente di publish e subscribe che va configurato sui servizi che ne fanno uso e può essere configurato con redis con kafka con quello che volete vediamo quindi applicativamente cosa ho fatto innanzitutto spero che si veda innanzitutto ho definito il composer con tutti il docker composer che mi lancia questi servizi con tutti gli servizi di cui ho bisogno cioè c'è lo shop c'era pincor c'era i due applicativi ma soprattutto i sidecar ogni servizio ha il suo sidecar uno a uno sul sul sidecar io definisco l'id dello shop l'id del servizio scusate la porta di collegamento verso i metodi che lascia il servizio la porta di la porta per raggiungere il sidecar da parte del servizio che è la porta dove richiamiamo dove invochiamo l'utilizzo delle funzionalità e poi altre 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 configurazioni che ora non sto a spiegare l'importante cioè non tutti anzi perché devo spiegare il components path l'importante è il components path che è la cartella il path il folder dove metto i componenti che che utilizzerà questo servizio di sidecar in relazione al nostro servizio applicativo un esempio di questo di questi componenti che sono componenti definiti in in the file yaml è questo che è esattamente il nostro componente che gestisce rabbit in cui gli impostiamo la configurazione di host che deve raggiungere più altre funzionalità tipo livello di concorrenza o di timeout questo viene identificato da Dappor con un nome specifico dopodiché c'è la tipologia che qua ci potrei scrivere rabbit time pure e di scaf importante sono gli scope che sono che sono che identificano quali sono gli applicativi che possono accedere a questo componente perché è vero che io definisco i componenti per singolo applicativo ma devo anche definire chi può accedere a questo punto vi rimostro rapidamente che qui dentro c'è un sacco di servizi che sono i servizi che abbiamo utilizzato noi non c'è molta differenza di configurazione in questo caso tra i singoli sidecar se non l'id di collegamento fra il servizio e il sidecar stesso il resto utilizzo gli stessi componenti perché è il componente per il meccanismo di pub share subscriber che ho utilizzato che viene utilizzato da tutti i servizi quindi come l'ho configurato è scritto sui sidecar e sui componenti le due applicazioni sono semplicemente le applicazioni che ho scritto in .NET Core sono delle semplici applicazioni scritte in C Sharp ora lo so che il gruppo tratta di più PHP ma semplicemente sono dei controller che rilasciano determinate funzionalità richiamabili questa è la funzionalità che scatena che viene invocata dalla creazione di un ordine io in questo caso ho usato la libreria che rilascia Dcapor per semplificare le chiamate verso Dcapor infatti qui ho una chiamata di pubblicazione di un evento su un certo oggetto per il componente che ho definito che ha questo nome che ho definito per la configurazione per questo topic per questo dato se volevo implementare manualmente la chiamata verso l'API del building clock che mi gestisce l'accesso a Rabbit la chiamata era scritta in questo modo quindi localhost perché il riferimento è su localhost con la porta che ho configurato di Dcapor con un'operazione di publish anche qui verso il nome il pub sub che è il nome del componente e orders che è il topic dove voglio scrivere il mio evento il mio messaggio che è l'informazione dell'ordine dall'altro lato dall'altro lato come magari tornando rapidamente di qua possiamo vedere dall'altro lato c'è la nostra applicazione collegata con Pincor che resta in ascolto delle notifiche dell'evento che abbiamo comunicato di creazione ordine e va a scrivere la spedizione che abbiamo visto nella demo quindi altro applicativo dall'altra parte è altro controller che gestisce i seguenti i seguenti end point HTTP messi a disposizione definendo definendo anche qui tramite l'SDK tramite la libreria che mette a disposizione TAPOR per l'ambiente di .NET io utilizzando questa annotazione dico a TAPOR che sono in ascolto di questo componente su questo topic semplicemente l'arrivo dell'order data che ho girato dall'altra parte vado a richiamare la creazione della spedizione verso PINCOR e anche qui con una chiamata HTTP API chiaramente io ho utilizzato l'SDK per semplicità se non avessi utilizzato questo tipo di annotazione per creare una sottoscrizione verso un evento e avrei dovuto usare un altro tipo di componente definibile come subscription con questo nome indicando il topic la route che deve eseguire in caso di notifica sul mio applicativo internamente e il nome del componente che mi gestisce TAPOR che era questo ovviamente quindi ritorniamo ritorniamo alla nostra presentazione dallo stesso la stessa gestione quale per PINCOR che notifica lo status verso Shopify dell'aggiornamento dell'aggiornamento della spedizione anche qui abbiamo un webbook che richiama il solito applicativo di shipment pub sub che richiama ad TAPOR che richiama l'event broker dall'altra parte riabbiamo di nuovo la subscription da parte dell'evento di aggiornamento della spedizione che mi aggiunga lo status di Shopper dell'ordine lo status dell'ordine su Shopper o in verità scusate cosa ho appena visto quindi ho appena visto che configurare una struttura di questo genere su su un ambiente cioè su due applicativi reali per la comunicazione di due applicativi reali è relativamente semplice chiaramente c'è mille configurazioni da poter fare su Rabbit da poter fare su componenti io l'ho semplificata molto ma ma anche l'accesso per vedere come funziona è relativamente semplice i vantaggi di TAPOR rimangono la centralizzazione dell'uso di Rabbit in questo caso o di qualsiasi altro componente da i servizi che li richiamano TAPOR fornisce poi a livello di configurazione retrai i livelli di sicurezza i livelli di accesso sono tutte gestioni che ci possono essere utili per costruire per costruire un'architettura di questo tipo che era anche lo scopo che ho detto all'inizio del progetto l'implementazione è oltre alla configurazione è solamente gestire le chiamate verso TAP ora un appunto che posso fare è ovviamente il fatto che potevo implementare la gestione degli eventi direttamente su shop e storage chiaramente però per semplicità mi sono voluto estragnare dai due applicativi perché già complessi di loro e soprattutto perché in un architettura microservizi si tende a definire dei servizi che fanno cioè a definire dei servizi da delle applicazioni più stile monolitico di tutto lo shop e lo storage che hanno funzionalità specifiche per l'indipendenza delle stesse quindi concludo come? concludo e poi magari faccio un overview sulle altre vantaggi di DAPOR allora sicuramente dalla prima overview che abbiamo visto abbiamo visto che le necessità cambiano nel tempo con le evoluzioni quindi l'integrazione di Cati sì è arrivata è arrivata la gestione della comunicazione di integrazione all'uso di strumenti di comunicazione di messaggio che abbiamo visto ma è fondamentale creare dei sistemi di integrazione efficienti ed efficaci TAPOR ci può aiutare in questo modo direi di sì il nuovo approccio che ho mostrato che probabilmente userete in molti come strumenti come Rabbit come Kafka sicuramente aiutano a disaccoppiare gli applicativi e a rendere resiliente l'architettura che non è più che non ha più dipendenze che non ha più accoppiamenti fra i due servizi ma i servizi restano completamente autonomi e evolvibili integrabili la funzione intemporale rimane ci dà una mano tra come ho detto direi di sì perché abbiamo riusciti ad integrare molto rapidamente un concetto di una struttura del genere con una configurazione veramente minima cosa possiamo dire sul futuro che c'è poi l'uso di idrapper di cui ho fatto un approccio veramente semplificato ma era per dimostrarne la semplicità di uso possiamo dire che idrapper e offre molto di più di quello che abbiamo visto oltre a livello di sicurezza delle operazioni è una delle cose più particolari che una delle funzionalità più interessanti che ci porta all'applicativo il tool è il sistema di bindings che potevo anche utilizzare nel mio esempio perché io posso restare mettermi in bindings su sistemi di output su risorse esterne come di database quindi se restavo in ascolto della scrittura dell'inserimento dell'ordine di shopware potevo generare direttamente l'evento allo stesso modo lato pink potevo rimanere in attesa della scrittura della spedizione per generare nuovamente l'evento un'altra funzionalità molto interessante è la funzionalità di sono le funzionalità collegate ai componenti di osservabilità come abbiamo visto prima Zipkin su un sistema anche complesso di architettura di servizi riesce a darci un overview ad altissimo livello di tutti i collegamenti tra i servizi dato che tutta la comunicazione passa dal dato infine riporto lo schema dell'uso di TAPOR su Kubernetes perché ovviamente è tutto molto bello sviluppare localmente per fare vedere un test ma è molto importante far vedere come funziona in un ambiente di produzione più reale quindi vediamo che la struttura di Sidecar rimane esattamente la stessa con i componenti che si collegano allo stesso modo al Sidecar però vediamo che ci sono altri attori che c'è altri servizi che rilascia TAPOR che non sono il Sidecar che ci servono per la comunicazione fra i pod e per l'accesso ai componenti dai servizi schedulati implementati sui singoli pod localizzati sui singoli pod ok non sto entrare nel dettaglio perché anch'io purtroppo non ho creato un esempio di questo genere quindi la mia presentazione finisce qui e ha avuto lo scopo di dimostrare fondamentalmente come un approccio a Vinsursi ci può dare una mano sull'integrazione la comunicazione dei dati anche se probabilmente molti di voi la utilizzeranno ma soprattutto come DAPOR ci può dare una mano in questo ora le domande mi posso aspettare che siano svariate soprattutto sull'uso di DAPOR o su magari o su qualche concetto più di eventsourcing chieditemi pure o su o 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 Grazie a tutti